Buonasera a tutti, oggi 11 gennaio 2013, cominciamo questa nostra serata di dirette con la consuleta del direttore. Lungi dal cedra la tentazione di commentare notizie o meglio pseudonotizie sulle liste, gli apparentamenti, i simboli clonati, i tradimenti, l'audace imprese di candidati nell'ambito dell'avvio della campagna elettorale per le prossime elezioni, cercherò di concentrarmi su qualcosa di concreto, stabile, anche perché sono troppo pigro per passare la cera in terrazzo mentre è in corso un uragano, come direbbe qualcuno. Oggi volevo concentrarmi come ho fatto altre volte su un fatto che proviene dai media. Parlo della presenza del candidato Silvio Berlusconi alla trasmissione Servizio Pubblico di Santoro sulla Sette. Come detto non saranno valutazioni politicistiche o di merito, ma semplicemente da consumatore della televisione, delle varie trasmissioni. Oggi ho rivisto, mi sono visto la puntata di ieri e la cosa che più mi ha incuriosito, mi incuriosisce e anche un po' contrariato, è la rivelazione da parte del conduttore Santoro, presumibilmente accidentale, avvenuta in uno dei vari intervolamenti propri della PS che animava. Rivelazione che faceva intuire neanche tanto velatamente un accordo intercorso, prima della trasmissione, tra lui e l'ospite Silvio Berlusconi. Un accordo si lasciava intuire su argomenti di cui si sarebbe parlato, quindi sui temi da trattare e sempre presumibilmente anche su quelli da escludere. Le regole che ci siamo dati, questa è l'espressione di Santoro, a cui Berlusconi obietta quali? Regole concordate, ecco l'altro virgoletto di Santoro, da persone per lei. Una voce da sé in fuggita, ma non sappiamo. Ora, sempre da utente televisivo e fruitore abituale dei vari programmi, cosiddetti di approfondimento politico, a cui si può scrivere in un servizio pubblico, io mi sono dato un po' spaisato. L'occasione dell'incontro tra i due ieri, che aveva un unico precedente nel lontano 1996, proprio così vis-à-vis, mi pare di ricordare che di fatto questa italietta televisiva sia un fatto di rivolenza storica, tra virgolette. Da una parte c'era un candidato, ex Presidente del Consiglio, che non ha mai gradito Santoro e come da intercettazioni il risultato abbia agito da Presidente del Consiglio per allontanarlo dalla RAI insieme ad altri e che oggi, dopo tante vicissitudini, si ripropone candidato. Come Premier o meno, questo poi lo vedremo. Dall'altra c'era Santoro, che ha costruito la sua notorietà in tempi recenti col grosso contributo di quell'insieme di azioni, di dichiarazioni, di gesti, convinzioni, esternazioni e così via, che sono un ectoplasma informe comunemente denominato anti-berlusconismo e che è stato in realtà poi un buon supporto al berlusconismo. Io in qualche modo presumevo che da entrambe le parti l'aspitatezza che entrambi i diversi ruoli esigevano non sarebbe stata regolata da accordi. Perché la necessità di un accordo? Forse per evitare il trascendere sulle vicende processuali, ma su quelle nessuno avrebbe potuto tacitare il sodale travaglio, come sempre informatissimo, che respira dossiera anziché aria e infatti travaglio ha agito come di consueto. Forse esigenze di rete per evitare che fioccassero delle querele a raffica, che comunque fin da subito sono sempre una fonte di spese legali. O forse per dare a me l'occasione con questa virgola di arrobellarmi e di parlarvi di questo argomento su LibriTV. Di fatto, secondo me, alla fine Berlusconi, che è uomo di palcoscenico, è stato accolto nell'ambiente a lui più confacente, quello della bagarre, che lo ha aglietato con domande di gossip processuale. Gli è stata data la possibilità di esibire quella che obiettivamente è una eccezionale prontezza di riflessi adolescenziale quasi, fatta di accorgimenti, protesi, roba posticcia simile e di risposte a scarso contenuto politico degne di simili domande. Per esempio, qualche attenzione alla politica estera Santoro avrebbe potuto dimostrarla. L'Italia è pur sempre un membro della comunità internazionale e magari sarebbe stato utile chiedere a Santoro, cioè che Santoro chiedesse e incalzasse Berlusconi per esempio su vicende tipo una vicenda siriana dove si contano più di 60 mila morti tra gli oppositori del regime di Assad. Noi su LibriTV ce ne occupiamo, grazie a Shadamati, o sulla vicenda per esempio dei due Marò in India. Parlare solo della Merkel e di economia in modo così paro non è parlare di Europa in definitiva, perché l'Europa non è solo la Germania, l'Europa non è solo leader da irridere per le loro fattezze fisiche. L'Europa è costituita anche da altri stati oltre la Germania, peraltro alcuni anche in crescita economica. La giustizia per esempio assente se non per i fatti privati di Berlusconi, eppure è un settore dell'Italia che necessita a parer di tutti di una riforma globale. Cosa propone Berlusconi? Una recente condanna peraltro da parte della CEDU ha sanzionato l'Italia per le condizioni carcerarie, eppure nulla. 67 mila detenuti in carcere che ne possono contenere 22 mila in meno. Eppure forse Travaglio non avrebbe credito, una domanda simile avrebbe magari corso il rischio di trovarsi da solo nelle vacanze estive. Diritti civili, è sembrato abbastanza scarsa l'attenzione su questo, c'è stata peraltro anche una recente dichiarazione di Berlusconi che apriva a matrimoni gay, o almeno così sembrava. Insomma, alla fine è sembrato che questa puntata di servizio pubblico sia stata un servizio reso a Silvio Berlusconi, che di adepti elettori che voteranno credendo e non pensando comunque ne troverà. Una puntata che nelle premesse sarebbe dovuta essere l'ascesa del candidato Silvio nella fossa dei leoni. Peraltro di questo parere che questa trasmissione abbia in realtà rilanciato il candidato Silvio Berlusconi, veramente contrariamente a tutto ciò che possa far pensare l'orientamento politico, di cui non si è mai fatto mistero, degli stessi Travaglio, lo stesso Santoro. Anche Padellaro ho sentito di recente sulla Sette qualche minuto fa dire che in questo modo esce Berlusconi che si propone come candidato non certo minore a un Bersani che al momento si prevede sia il vincitore, sarà il vincitore delle elezioni. Alla fine si ricorderanno tutti i grandi sorrisi di Berlusconi, della sua ipocrita mano tesa a Santoro, che Santoro gliel'ha rifiutata, insomma il quadro della povera vittima. Ringraziamo Santoro, sarà la politica italiana che non offre altro, oppure che alla fine tutto è frutto di un accordo da far venire nostalgia del compromesso storico. Ai posteri, largo la sentenza e anche a tutti coloro che seguono queste termissioni, che sono tanti, ieri c'è stato un vero e proprio picco d'ascolto, arrivati addirittura a un 50% nei momenti di massima conflittualità tra i due interlocutori. Di questo volevo parlarvi, passo direttamente al resto, ringraziando la regia di Leonardo Volpicella che si sta adoperando con mezzi non sempre perfettamente funzionanti, eppure riusciamo lo stesso a trasmettervi queste dirette. Ricordandovi che LibriTV è un'associazione che si autosostenta e che quindi sarebbe gradito che vi iscriveste, per darci una mano non solo economicamente, lo sottolineo sempre, ma anche con il vostro contributo fattivo, le vostre proposte, e passo direttamente a illustrarvi il parincesto di questa giornata. Intorno alle 20.45 lo spazio Certi Dritti, le donne lo sanno, sarà intitolato in questo modo, lo spazio Certi Dritti, condotto e curato da Riccardo Cristiano, e questa sera ci sarà una conversazione con l'avvocato Fernanda Gigliotti, che già abbiamo avuto in trasmissione qualche settimana fa. All'avventura 15 la striscia filosofica, intitolata a questa trasmissione Laicità e Nuovi Diritti LGBT, studi sull'identità di genere e l'orientamento sessuale. Luca Taddio cura questo spazio e ospite di Luca Taddio sarà Francesco Bilotta, responsabile della collana LGBT di Mimesis Edizioni. Alle 21.45 a tavola con i libri, le note di lettura a cura di Giancarlo Calciolari, il titolo ed è anche il libro che si commenterà, che Giancarlo commenterà questa sera, è Le mele nella cucina delle Dolomiti, 75 gustose ricette di Stefan Stabler, un libro del 2012 edito da Atesia. Ricordiamoci che Giancarlo Calciolari è uno psicanalista chef, chef psicanalista, io un pochino lo presento sempre in questa duplice veste, perché secondo me c'è anche un po' di osmosi tra le due cose e questa sera commenterà appunto questo aspetto gastronomico diciamo con questo libro. Alle 22 voci radicali, voci radicali curato da Riccardo Cristiano e ci sarà appunto la conversazione con, una seconda puntata della conversazione con Silvana Bononcini, quali speranze per la politica del 2013? Una conversazione con Silvana Bononcini che io definisco radicale storica, adesso lei segue la vicenda politica di Libertiamo, quindi di Benedetto della Vedova, ma è sempre, insomma, si ha militato lungamente con i radicali e io la considero ancora una radicale. Alle 22.30 la consueta trasmissione sul panorama antiproibizionista Leggera Euforia, curata da Claudia Sterzi e questa sera avremo un ospite che è Stefano Auditore, ideatore del progetto FreeWeed. Vedremo di che si tratta alle 22.30 con Leggera Euforia. Vi ringrazio, fin d'ora vi invito a seguire le trasmissioni di LibriTV, grazie ancora, alla prossima. La linea alla regia.